In avvio c'è lotta con il tentativo esterno da parte di Pride of West di conquistare il comando, si oppone Peter Starlight che subita a Palmera Gym e va alla corda. All'esterno Pride of West, Peter Starlight al comando, si accoda in seconda posizione Pride of West dopo 200 in 14,4, Palmera Gym in terza posizione, poi in quarta c'è Pinturicchio ZS, ancora Poetic Ice, via via tutti gli altri, in lunga fila indiana con alcune mosse già dal fondo del gruppo. I 400 intanto completati in 29,9 da Peter Starlight, avanza Polaris AS che con poche battute si porta a ridosso dei primi. Intanto metà della seconda piegata superata, a largo c'è anche Pandas di Madval che segue direttamente Polaris AS. Completamento dei 600 in 45,7, Polaris impegnato all'esterno. A lato di Pride of West, intanto se ne vanno i primi 800 metri di gara, si può accodare Polaris AS in seconda posizione alle spalle di Peter Starlight, rimane scoperto Pandas di Madval. A largo c'è anche il tentativo di Palmera Gym che anticipa intanto Perfect Runner LF, un minuto e cinque decimi per Peter Starlight che continua a comandare a piacere. All'altezza del chilometro in scia c'è Polaris AS, il chilometro in 1,15,9, si fa andatura e così siamo a 500 dalla conclusione con leader Peter Starlight, Polaris AS che sposta all'esterno. Più indietro Palmera Gym. Bocco della curva conclusiva con in vantaggio Peter Starlight, Polaris sempre in seconda posizione, poi Palmera Gym. Pandas di Madval che non riesce per il momento a intervenire, completamento della curva con Peter Starlight in vantaggio su Polaris, su ultime battute Peter Starlight nel finale in grado di andarsene per proprio conto, di vincere nettamente il secondo posto per Polaris AS. Al terzo finisce Palmera Gym, 1,14,8, 29,3 a chiudere il successo per Peter Starlight, William Loderer Jr., quota di 4,48 al totalizzatore, il training dello stesso William Loderer Jr. per la scuderia di William Loderer Jr. per la scuderia di Daniel. Sì 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 Sì